Per rendere omaggio alla vita più fragile e indifesa, in occasione del suo 150esimo anniversario, l'Istituto Serafico ha organizzato una serie di iniziative. Il 17 settembre, giorno della Fondazione del Serafico, alle ore 21, presso il Teatro Lyric di Assisi, si svolgerà un evento celebrativo con la proiezione del docufilm Nella vita c'è la vita, realizzato dalla regista Maria Amatacalò. Ospite speciale della serata sarà Giovanni Caccamo, cantautore scoperto da Franco Battiato e vincitore della categoria Nuove Proposte alla 65esima edizione del Festival di Sanremo. Il 18 settembre, alle ore 21, presso la piazza della Basilica Inferiore di San Francesco di Assisi, si terrà, in onore del Serafico, il concerto della Banda della Polizia di Stato, che vedrà la partecipazione del tenore Francesco Grollo. Il 3 e 4 dicembre si svolgerà il primo convegno internazionale Assisi Cambridge sui disturbi del neurosviluppo, disabilità e neuroscienze. Il 13 dicembre si terrà l'udienza speciale in Vaticano di Papa Francesco per il Serafico di Assisi. Per l'intero programma delle celebrazioni dei 150 anni del Serafico, consultare il sito www.serafico.org. Grazie. 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 Grazie.